La natura, l'arte, i paesaggi e i monumenti che raccontano la magia di una terra ricca di storie e suggestioni con un richiamo anche nel nome di Vina Toscana a un illustre cittadino di questa terra. Questa la nuova immagine scelta per promuovere la Toscana al BIT 2014, la manifestazione milanese punto di riferimento per il turismo di qualità che si svolge dal 13 al 15 febbraio. Che ci vede appunto con questa immagine ma anche con dei dati assolutamente positivi in termini turistici perché noi pensavamo di arrivare ad un traguardo nel 2014, invece insomma siamo già in buonissimi risultati. Abbiamo già degli ottimi risultati oggi perché abbiamo un aumento degli arrivi e delle presenze dello 0,8 e dello 0,5%. Ovviamente aumenta la domanda internazionale, ancora è contratta quella nazionale, si parla di arrivi e di presenze rimanendo ovviamente molto centrati sul fatto che i fatturati ancora sono in difficoltà. Ancora più confortanti le previsioni per il 2014 con la conferma del gradimento di un'offerta che non si limita alle città d'arte ma comprende natura, enogastronomia e il balneare. Tra le novità il turismo dalla Corea del Sud e dall'Est Europa. Chi viene in Toscana per la prima volta, quindi penso ai paesi BRIC, ai paesi emergenti, cresce in modo esponenziale, sono dati di crescita in doppia cifra. Per noi questo è importante perché poi questi saranno anche i turisti di domani, torneranno in Toscana e scopriranno destinazioni diverse oltre a Firenze, Siena e Pisa. Ma di positivo è che anche i mercati europei classici, quelli che hanno una capacità di spesa molto forte, penso agli Stati Uniti e alla Germania, nel 2013 hanno ricominciato a correre, direi a crescere bene. E i dati del 2014 ci dicono che la performance sarà buona anche nel 2014.